Un emendamento da inserire in finanziaria che mira a salvare tutti i beni realizzati con i fondi dell'IRCAC e che impegna i comuni ad assumersi la responsabilità di provvedere alla manutenzione degli immobili. Il presidente del CONIS a Saccinto reinterviene nel dibattito sulla piscina Nannino Terranova lanciando una nuova idea. Dopo l'annuncio di una conferenza di servizio e la presenza degli attori che ruotano attorno alla piscina Epparina, lanciata qualche settimana fa, ora un'altra idea, non nuova in realtà, ma di cui lo stesso Cinto l'aveva parlato tempi addietro all'onorevole Salvatore Zago, perché il dilemma della piscina Nannino Terranova non è un problema nuovo ma datato. Io credo che la soluzione più logica è quella di fare in modo che i parlamentari della provincia di Ragusa si facciano promotore di un'iniziativa in sede di esame della finanziaria, che fra l'altro è stata spostata di un mese, quindi il tempo c'è per trovare questa soluzione, e fare in modo che non solo la piscina Nannino Terranova, ma anche tutte le altre strutture che esistono in Sicilia, finanziate moltissimi anni fa con i fondi dell'IRCAC, l'Istituto regionale del credito alla cooperazione, quasi tutte fallite se non tutte, bisogna fare in modo che all'interno della finanziaria si possa inserire un emendamento, una norma, secondo la quale questi beni, che altrimenti andrebbero al degrado, vengano attribuiti alla titolarità dei comuni, dei territori di appartenenza, purché i comuni si assumono gli obblighi della ristrutturazione e anche della gestione. Salvare la piscina Nannino Terranova, questa è la parola d'ordine a cui deve rispondere la classe politica deputata ad intervenire per cambiare le sorti della struttura, ormai chiusa da mesi e in liquidazione. La riunione probabilmente sarà convocata dopo le festività di Pasqua.